È una partita molto attesa, una partita importante per tutte e due le società, per tutte e due le tifoserie, quindi non si può parlare di una partita come tutte le altre e quindi c'è da parte nostra, almeno da parte mia, anche un po' di emozione perché so quello che significa per la gente qui a Fiume questa partita. Sappiamo che hanno assenze anche loro, uno squalificato e qualche giocatore infortunato, quindi i problemi ce li hanno tutte le squadre. L'Aiduc è una squadra che è stata costruita con delle ambizioni, è comunque strutturata per un campionato di vertice, è un avversario che temiamo, che è giusto temere nella misura giusta, non senza essere troppo spaventati, però il saper riconoscere agli avversari delle qualità è un fatto positivo. Quindi io devo pensare non all'Aiduc ma al livello che possiamo alzare noi. Quindi se parlo del 30% vorrei che questa partita arrivassimo ad esprimersi almeno al 70%. Questo sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto caratteriale bisogna esprimersi al 110%. Devono i giocatori, devono annusare, devono annusare quello che è questa partita, devono annusare quello che vogliono i nostri tifosi.